È anche un'occasione per, diciamo, in un anno che coinvolgerà città, istituzioni, musei, sedi all'estero, istituti di cultura e via dicendo, di raccontare anche cosa ogni città sta mettendo in campo, in particolar modo quelle con più interesse o legami danteschi. Pesaro lo è per tanti motivi, è una provincia dantesca in tanti segni e tanti luoghi, lo è con le proprie istituzioni che partecipano in maniera sinergica in squadra a queste celebrazioni che avremmo tutti voluto svolgere un po' più in presenza ma che oggi abbiamo presentato in forma digitale anche per dare spazio, diciamo, a quelli che saranno i contenuti che ci svilupperanno durante le settimane e i mesi. Iniziative tra cui 100 voci per 100 canti, una maratona di lettura promossa dalle voci dei libri, iniziata in queste settimane, 100 pesaresi ma non solo in realtà di tutte le estrazioni, lavori, professioni nella città e nei territori, ci sono cimentate con la lettura dei 100 canti che saranno tutti seguibili e ascoltabili online sulla pagina dellevocideilibri.it è questa associazione con cui abbiamo tante collaborazioni anche durante l'anno sui temi della lettura e non solo. Poi c'è il ciclo di iniziative a ragionare di Dante che è un ciclo di incontri fondamentalmente realizzato in particolar modo anche grazie al sostegno dell'Assemblea regionale delle Marche e la collaborazione dell'Università dell'Età Libera. La Sonosfera che ancora non può essere aperta perché tecnicamente è un teatro quindi riaprirà quando riapriranno i teatri, tra l'altro anche con un sistema di circolazione dell'aria assolutamente innovativo pensato pre-Covid ma che ora la fa diventare ancora di più un'eccellenza. E qui si sta lavorando a un progetto speciale legato al quinto canto della Divina Commedia, quindi l'Inferno, quindi anche un ponte verso Gradara in cui il quinto canto sarà non solo letto ma i rumori descritti ed evocati, i suoni descritti ed evocati da Dante in quel canto saranno ascoltabili. Quindi un'esperienza unica e immersiva a livello quasi di un film fantasy dove in realtà il protagonista è la parola, il suono, l'audio e tutte le potenze dell'Età che una realtà unica come la Sonosfera può rendere. Le mostre, le mostre perché il centro attività e pescheria è già pronto con un progetto che abbiamo solamente ultimato ma non ancora inaugurato che è appunto abbiamo chiamato Light My Fire, un po' riprendendo i dors ma in realtà l'elemento del fuoco a partire dall'Inferno ma non solo ma anche il fuoco, il sacro fuoco diciamo della produzione letteraria. E qui avremo dei giganti come Salvador Dalì con le sue cento tavole ispirate alla Divina Commedia, l'Inferno di Rauschenberg sempre all'interno della pescheria e un video veramente molto d'impatto dei Claire Fontaine che sono questi artisti contemporanei, un video che gioca appunto anche sulla critica al modello sociale e economico ma partendo anche qui dall'alimento del fuoco. L'abbiamo tenuto insieme in un grande racconto che speriamo di poter fare vedere prima possibile. La Biblioteca Oliveriana che ovviamente mette in mostra i suoi tesori cioè le edizioni più preziose della Divina Commedia che in tante versioni illustrate insomma di secoli e che sono patrimonio dell'ente Olivieri. Quindi una mostra curata da Brunella Paolini che sarà appunto che questa è una bella opportunità sia di frequentazione della biblioteca sia appunto di visione di questo patrimonio quasi unico. E voglio ringraziare e segnalare anche la partecipazione dell'archivio di Stato con questo lavoro che sostanzialmente è un viaggio chiamato da Focara a Senigaglia, i luoghi di Dante nell'ex legazione di Urbino che sostanzialmente come nello spirito dell'archivio di Stato quindi partendo dalle fonti storiche documentali e tutti i segni anche più inediti o più curiosi o più di ricerca che però danno appunto l'importanza, il segno appunto del passaggio e del racconto e della fortuna diciamo del racconto dantesco nel nostro territorio a partire dai documenti, anche qui dei tesori che sono all'archivio di Stato.